Grazie Carlo e grazie a tutti coloro che hanno partecipato oggi e ai relatori che hanno consentito di fare un approfondimento e una conoscenza rispetto a un tema che è quello dell'albero monumentale e in particolare dell'albero monumentale d'Italia che può avere, abbiamo visto, grandi aspetti e tante sfaccettature da un punto di vista della conoscenza. E possiamo dire che l'albero monumentale rappresenta intanto un valore naturalistico, abbiamo visto esemplari, avremmo potuto vedere esemplari spettacolari, comunque il libro ci ha consentito di vederli, ci consenterà di vederli più volte, in qualsiasi momento vorremmo. E quindi abbiamo visto esemplari che hanno secoli sulle loro spalle e rappresentano un ecosistema, quindi rappresentano il mondo della natura fondamentalmente, quindi hanno un valore naturale fortissimo da un punto di vista ecologico, da un punto di vista dei rapporti e dei legami con tutto il resto del mondo naturale. Hanno un valore di tipo antropologico perché raccontano storie, abbiamo visto leggende collegate agli alberi monumentali, abbiamo visto storie, essendo alberi che hanno alle loro spalle secoli di storia, hanno proprio, portano con loro tutta un vissuto profondo, un vissuto antico che è al di là della vita di un uomo, quindi sono veramente dei libri di storia fondamentalmente che portano con loro tutta una cultura e un vissuto umano anche. Hanno anche un valore territoriale. Un albero monumentale è un punto di riferimento, abbiamo visto l'affermazione fatta dicendo che un prato senza un albero, al di là dell'albero monumentale, non avrebbe un grande significato, mentre con un albero specialmente se monumentale assume un portato molto differente, questo segna un valore che l'albero dà al territorio, semplicemente da un punto di vista estetico intanto, ma poi è anche un valore da un punto di vista proprio della società, nel senso l'albero monumentale e l'insieme degli alberi monumentali abbiamo visto il lavoro fatto dal Ministero che ne ha riportato la georeferenzazione in Google Maps. Questo è un elemento che consente le politiche territoriali di fare delle valutazioni a livello di scelte politiche appunto, quindi l'albero monumentale è come elemento che intercetta le valutazioni delle politiche territoriali. Le intercetta modificandole, deviandole, migliorandole magari perché rappresenta un valore da preservare o attorno a cui costruire altre politiche di valorizzazione del territorio, rispettose chiaramente del territorio. L'albero a valore territoriale, per esempio, Rosella ci ha detto che gli alberi da frutto sono poco rappresentati perché appunto avevano una funzione utilitaristica e di conseguenza una volta finita la loro funzione produttiva fondamentalmente non avevano più utilità. Ma gli alberi monumentali da frutto, qui ne è rappresentato uno solo, ma con Rosella abbiamo fatto dei sopralluoghi in giro per il territorio, ne abbiamo visti degli altri in odore di monumentalità, potremmo dire così, che probabilmente candideremo per i prossimi decreti. Sono rappresentanti di una forma di governo del territorio differente da quella di oggi, sono rappresentanti di un mondo rurale che non c'è più. L'albero da frutto oggi fondamentalmente è reggimentato in forme costrette, in forme finalizzate alla produzione, che sono molto diverse rispetto a quelle di molti anni fa e quindi questi alberi mi rappresentano proprio dal punto di vista territoriale una modalità di gestione e di rappresentazione del territorio rurale differente da quella di oggi, quindi hanno un portato di racconto estremamente importante. L'albero monumentale ha anche un valore culturale, l'abbiamo visto nei racconti, nelle letture delle poesie che Mino Petattini ci ha fatto, ma anche il servizio patrimonio culturale in queste ultime quattro settimane, in preparazione di questa giornata, ha fatto un approfondimento sull'albero nella storia dell'arte e la nostra collega Claudia Collina ha raccontato l'albero nei dipinti, nelle opere d'arte passate e contemporanee. Quindi l'albero come elemento di ispirazione, come elemento di emozione e quindi anche il valore emotivo è un valore molto importante. Faccio un breve racconto di un'esperienza personale. Quest'estate ho fatto, l'estate scorso ho fatto una vacanza nella zona del Friuli Venezia Giulia, in un comune che si chiama Pulfero, a nord di Udine. In quel luogo c'è una frazione che si chiama Pegliano e lì c'è un castagno, un castagno che guardando proprio il sito del Ministero ho riconosciuto come albero monumentale d'Italia. Nell'avvicinarmi alla visita del territorio ho visto il cartello del castagno e quindi sono andato a vederlo. Il caso ha voluto che in quel momento passasse un vecchio signore e in modo molto gentile si è avvicinato a noi e ci ha detto ma andate a vedere l'albero, andate a vedere il castagno. Abbiamo detto certamente, ci interessa, siamo molto appassionati e ci ha raccontato la storia, una storia collegata a questo albero. Ci ha detto che raccogliere le foglie dell'albero di castagno, quelle non attaccate ai rami ma quelle cadute per terra, avrebbe portato alla guarigione delle nostre malattie. Questo, come dire, è stato una, come dire, ci ha sorpreso, ci ha incuriosito, allora gli abbiamo chiesto ma come poteva dire una cosa simile, da dove aveva delle prove in qualche modo, e lui ci ha raccontato che donare queste foglie a degli amici, a delle persone care, portava alla guarigione delle cose che le persone sentivano come malattia. Quindi noi siamo giunti al castagno, abbiamo raccolto le foglie e io ho fatto dono di queste foglie a degli amici, indipendentemente dalla verità o meno, chiaramente, di questa storia, però il portato emotivo che questa storia mi ha dato ha collegato, mi ha fatto collegare a quest'albero un qualcosa di diverso rispetto a un semplice esemplare o un semplice individuo vivo nel territorio, che già non è semplice di per sé, però aggiunge a questi, li abbiamo chiamati patriarchi, li abbiamo chiamati monumenti, li abbiamo chiamati giganti, aggiunge un portato emotivo che ci mette in relazione e quello che io credo sia importante è ritrovare questa emotività, ritrovare questa sacralità anche collegata a questi alberi, una sacralità che ne consente il rispetto, perché abbiamo detto che Francesco Besio ha detto che di fatto se noi non toccassimo questi alberi andrebbe molto meglio per loro, loro vivono indipendentemente da noi, quindi tutto quello che noi ci stiamo dicendo, tutte le operazioni che facciamo di protezione e tutela, interventi, che di fatto servono a noi, è un punto di vista antropocentrico, stiamo nel pieno antropocene, quindi abbiamo questo bisogno di vedere tutto con il nostro occhio, ma in realtà se spostiamo il punto di vista e guardiamo in funzione di quello che è l'albero e quindi l'interesse dell'albero, è importante riconoscere la sua sacralità, la sua importanza, la sua individualità e secondo me per fare questo e con questo chiudo, ci può aiutare anche tutta l'innovazione che sta portando il professore Stefano Mancuso dell'Università di Firenze, in merito al concetto di albero come individuo senziente e intelligente, se noi vediamo l'albero come capace di sentire, di vedere anche, perché ci sono esempi al di là dell'albero, ci sono esempi di piante che vicine ad altre piante assumono comportamenti simili, quindi in qualche modo vedono, quindi le piante, quindi l'albero come esseri senzienti capaci di sentire e di capire in qualche modo, forse ci consentirebbe di approcciarci a loro con maggiore rispetto e maggiore attenzione, a maggior ragione per un albero monumentale che ha il suo portato storico e la sua fragilità data dalla vetustà che rappresenta. Grazie. 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 Grazie.